uno è dietro fatto bandit raga ma è serio un dronaggio non ho droni cazzo ambio caricatore nero proprio fatto fatto ricarico fatto dai raga a plantare a plantare dai dove dove chiama silenzio assoluto so che qua sinistra che giocata quadruple agg mamma mia che giocata che ho fatto comunque non so perchè fross non mi ammettere facevo oddio deve deficiente questo fatto silenzio siamo a 15 secondi silenzio silenzio oddio cazzo fatto non capisco perchè non mi non mi muoiono quattrople madonna non ho visto come abbiamo fatto qua è la stessa cosa a me no che sopra non mi muoiono what the fuck ma che cazzo neanche è ricarica nuovo caricatore ma mica piazzo no no disfensore è rimasto nontari nell'estrosione lo disignetto si difensori eliminati missione di attacco riuscita e la valla occhio la squadra d'attacco ha trovato una volta guarda 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 l'ho cavi morta breccia non è? si hanno aperto si ma non li faccio fuori morto che vede dove sto io? di qua di p***a ho io sul bridge anche ho pure di quello in due canali oh cazzo porto termite il nemico è rimasto è su scale l'altro è imbanito guarda quadra d'attacco eliminata azione completata con che team non come le vuole goal se le vuoi imprecise se le vuoi che ti lascio giocare no no mi hai detto che mi hai fatto la chiamata perfetta vuoi più bella su disco eh sono qua fuori sono qua fuori vieni che ti illo guarda come se si guarda come se si 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 ma non ho piano ricarica dai vieni che vieni che ti 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 ricarica ci siamo chiatevi bellissimo eh volevi bro ultimo attaccante rimasto in vita vai di nitro nitro on ping squadra d'attacco eliminata la posizione delle bombe è sicura se uno va a destra muore bravo termet vai di là ciao dal mic ma c'è lui anche in partita hanno fatto un piccolo aggiornamento al rainbow normale non ts cazzo clemo l'ha appena messa l'ha appena rimessa a destra ok l'ha messa a destra raga non si vede cazzo porto raga cazzo 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 ha scoperto torna indietro ultimo attaccante rimasto in vita cazzo ha controllato dal nemico rook non riesco a lanciare l'altra entrambi l'altra da solo addosso non so dov'è chiare sto ricaricando l'ultimo nemico rimasto restano 15 secondi 17 easy easy chiare chiare lascia la st s s la di s attra l'ho l'ha l'ha ultimo attaccante rimasto in vita hanno trovato una bomba proteggetela ma è il defuser giuzzi L'ultimo nemico è rimasto Magari può giocare negli altri anche Sì no? E' uno alla mia sinistra Scusa la mia destra Ragazzo fai E' un nemico Io pusha Nooo va bene Vado ad attacco in vita Beh dai è troppo facile Ho 5 sono contento Ciao 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 Ciao